Riserve che fanno sistema, sfruttano eccellenze paesaggistiche e una vocazione turistica spesso non sfruttata, si rivolgono adesso agli appassionati di mountain bike, migliaia e non solo d'Italia. E' stato presentato oggi a Lanciano il bel progetto della Greenway del Sangro, suggestivo percorso che si sviluppa in andata e ritorno sulle due sponde del Sangro, per un totale di 53 chilometri, mettendo in collegamento la leceta di Torino di Sangro con l'oasi di Serranella. L'itinerario inizia dalla foce del fiume nel territorio di Torino di Sangro, attraversa sulla riva sinistra i comuni di Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Lanciano, Santeusagno e Casoli, raggiungendo l'oasi WWF Lago di Serranella, per poi tornare verso il mare sulla riva destra del fiume e arrivare nella riserva naturale leceta di Torino di Sangro, presso il centro visite. Sono state utilizzate strade sterrate e anche qualche tratto asfaltato che si sviluppano tra i campi e nelle adiacenze del fiume, tutte poco usate se non dai trattori. Il progetto è stato finanziato da entrambe le riserve. Nicola Ranalli ha curato l'intera parte progettuale con la collaborazione di Andrea Natale, Gian Maria D'Alonso, Sergio Trevisan ed Andrea Ranalli. In conferenza stampa oggi presenti i sindaci dei comuni di Casoli e Torino di Sangro. Silvana Priori. Crediamo nella necessità e nella volontà di offrire ai nostri cittadini, ma anche ai turisti nazionali e internazionali, un paesaggio bello da godere, da vivere, quindi non soltanto per la bellezza delle riserve, quindi dell'ambiente che viene tutelato e promosso, ma anche per i nostri paesaggi agricoli, quindi la bellezza del cosiddetto paesaggio da gustare. Cerchiamo in questo modo noi amministratori locali di spingere e promuovere un turismo non più localizzato nei periodi estivi, turismo da mare, ma fare in modo che la presenza turistica nel nostro territorio sia spalmata su 365 giorni l'anno e quindi proprio per promuovere lo sviluppo economico del nostro territorio e ci crediamo molto in questo. Se la pista ciclabile lungo la costa rimane ancora un miraggio, allora ci si sposta verso l'interno? Sicuramente sarà più facile anche perché, visto la sordità degli enti sovracomunali nel loro dovere di tutelare e preservare la costa, è inevitabile che ci spostiamo verso l'interno Grazie a tutti!